Nullo può permetterci di sbagliare, no? Mi ha spiegato. Eh che altre parti, volte, non si vede neanche alle volte, si vede in un'idea. Non è tutto in città. 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 Nullo. Non è tutto in città. Mainini, Bascuda, Silva, Borisov, Turner, Lugana batte al tiro Al centro Borisov, Borisov e Turner Ma forse anche Bascuda in corsia 2, 13 e 69 Grazie